Se lei è d'accordo, io vorrei chiamare, visto che abbiamo qui anche un altro esimio artista che tra poco uscirà col suo album, addirittura non è già uscito, uscirà. Dove, dove andrà? Quando esce sto album? Quando esce? Venga qui. Signore e signori, un applauso per un costipato Dejan! Non è un insulto, è costipato. Lo spieghi lei. È una parola tecnica che indica quando uno è raffreddato. Lei ha qualche canzone, diciamo, magari così terapeutica, che fa come se fosse una specie di... Al microfono, Dejan, poi se non la senti... Dottor Dejan, venga, non la mordo ancora, Dejan, venga. Venga, Dejan, venga. Lo dicevo, lei ha qualche canzone terapeutica, Dejan, una canzone che la canta, poi si sente meglio. No. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. Una domanda sempre. Ma c'era quella dell'altra volta. E cosa l'ha fatta la tua? No, 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 vabbè, io me lo ricordo. Se lo ricorda lui, ve lo ricorderete voi, speriamo. Dejan, dal vivo! Grazie. Ho fatto un incubo, qualcosa di bruttissimo, e ho visto cose che non sapevo di avere in me. C'è troppa roba là fuori che mi mette paura. Cos'è questa storia? Non puoi alla tua età. Non essere ridicolo, non c'è nessun pericolo, ho controllato sia sotto il letto che nell'armadio. non c'è nessun pericolo, non c'è nessun pericolo. Vai via di qua, vai via di qua, vai via di qua, alla tua età devi andare via. Non essere ridicolo, non c'è nessun pericolo, non c'è nessun pericolo. tranne le cose che non sapevi di avere in te. Grazie. 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 Grazie.